Sono Marco Manessi della ditta Rofix, isolamento termico, è la terza edizione che partecipiamo agli vostri seminari. Risulta molto utile partecipare perché siete molto presenti sul territorio, siamo collegati per imprese, per progettisti, ma anche come referente tecnico in modo all'installazione e proprio io sono un referente che oggi parlerà in merito ai condomini, condomini che oggi è un enorme patrimonio su cui andremo a intervenire nei prossimi anni dato che è la maggior fonte di dispersione dal punto di vista edilizio e come risparmio energetico è minore emissione di CO2. Il sistema che noi parleremo oggi è il sistema termico a cappotto, sviluppato nelle migliori forme e chiaramente risulta la cosa più vantaggiosa e più reddittizia nel breve tempo in quanto riusciamo ad ammortizzare la spesa mediamente nell'arco di dieci anni. Oggi porterò delle piccoli esempi che già abbiamo attuato negli anni precedenti e abbiamo già dei dati oggettivi su cui possiamo dare delle piccole conferme che però confortate da un supporto tecnico della vostra progettista chiaramente risulta essere una cosa molto utile e sensibile al lato pratico e economico dell'amministratore, del proprietario di casa e dell'intero condomino.